Avvocato, si tratta di un'azione popolare in termini tecnici? Sì, è un'azione popolare che è prevista dall'articolo 70 del decreto legislativo 267 del 2000 che uniforma un pochino tutti quelli che erano le norme per quanto riguardavano le elezioni negli enti locali perché ovviamente il cittadino ha il diritto di essere governato da colui che ne ha la legittimità quindi è quello su cui verte poi appunto il ricorso fondamentalmente Sarà anche un ricorso d'urgenza quindi nell'arco di un anno e mezzo per i tre gradi di giudizio al massimo si arriverà ad una sentenza definitiva? Ecco, l'esperienza diciamo di altre sentenze, di altri procedimenti avvenuti in altri comuni italiani portano proprio a questo Avvocato, lei si è detta fiduciosa, particolarmente fiduciosa perché secondo lei i presupposti ci sono tutti? Sì, io ritengo che i presupposti ci siano veramente tutti, che non manchi assolutamente nulla né comportamento sia del signor Bittoni che del signor Fabianelli ovviamente fatto del distinguo poc'anzi dicendo che mentre il signor Bittoni in qualche modo ha continuato quella che era il suo esercizio di presidenza nelle entese di storie, il Fabianelli in qualche modo ha cercato di porre una pezza ma fondamentalmente l'ha messa troppo tardi e soprattutto in modo improprio